Sfida delicatissima oggi al Casini con il Trestina padrone di casa che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Il Villa Biagio è a tre punti e Mister Luzzi in settimana ha invocato umiltà e rispetto per il Bastia Umbra e soprattutto ha auspicato il ritorno al gol dopo un'astinenza di 286 minuti. A tal proposito il rientro di Ceccagnoli può senz'altro aiutare. Un Bastia accorto tatticamente in briglia il Trestina nei primi minuti di gioco. I ragazzi di Mister Luzzi allora cercano di massimizzare i calci piazzati come al quindicesimo quando un corner di Morvidoni pesca tempesta tutto solo davanti a Tagliolini ma la conclusione di controbalzo finisce alta sopra la traversa. La densità a centrocampo creata da Mister Mattoni rende sterile ogni tentativo d'attacco del Trestina che però al trentesimo trova il vantaggio. Bellucci abbatte un astuto Salis in area. Per Rugero di Roma non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto Vammancini che non sbaglia, Trestina 1, Bastia 0. Il Bastia ha un moto di orgoglio importante dopo il gol ed alza il baricentro. Al trentasettesimo è Sarli che calibra un astis radente e pericoloso dalla destra con Belli che manca l'appuntamento con il gol davvero per pochi centimetri. Primo tempo che si chiude con il Trestina avanti di un gol in un match teso ed avaro di emozioni. Data la posta in palio però non ci aspettavamo nulla di più. Nessuna sostituzione fra il primo e il secondo tempo ma ad apportare qualche modifica negli assetti ci pensa l'arbitro Ruggero che al quindicesimo prima monisce e poi espelle il capitano Marchetti del Bastia forse per qualche parola di troppo. Il Bastia nonostante l'inferiorità si butta generosamente in avanti ma presta il fianco alle ripartenze del Trestina che al venticinquesimo ha in canna il colpo del match point. Fuga sulla destra di Morise assist per Ceccagnoli che tutto solo davanti a Tagliolini sbaglia il controllo. La conclusione che ne consegue è da censura. Chiudere queste partite è fondamentale altrimenti si rischia la beffa ed è quello che poteva accadere in ben due occasioni. Al trentatresimo è Pacillo per il Bastia che sfrutta con abilità un rimpallo all'interno dell'area. La sfera lambisce il palo alla sinistra di Nicola Ceccagnoli. Due minuti più tardi è Castaldo a rischiare un clamoroso autogol deviando una palla velenosa proveniente dalla sinistra. Ottimi i riflessi di Nicola Ceccagnoli ma che sofferenza per il Trestina. Sofferenza che termina al quarantunesimo. Quando un errato quanto inespiegabile disimpegno del portiere bianco-rosso Tagliolini perfetto fino a quel momento viene trasformato in oro da Salis con Alessio Ceccagnoli che si rifà con gli interessi del precedente errore sottoporta. C'è il tempo anche per il gol della bandiera del Bastia con Pingue sul calcio piazzato nel recupero. Bastia Umbra che come al solito non ha regalato nulla facendo soffrire e non poco. Un Trestina che comunque porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza. E qui dal Casini di Trestina è davvero tutto il servizio per voi di Sandro Azzarelli. Queste sono partite estremamente complicate. Si devono vincere per forza. Poi se non si chiudono possono cominciare tanti problemi e tanta sofferenza. E' quello che è accaduto oggi. Tanti problemi e tanta sofferenza fino a un certo punto. E' chiaro che quando mantiene la partita sul 1-0 poi ci può essere sempre il rischio di poter prendere gol. Noi abbiamo avuto, come dici tu, tante occasioni per poterla chiudere. Magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato il tiro. In qualche circostanza magari è stato bravo anche Tagliolini. Però credo che nell'arco dei 90 minuti la partita è stata strameritata. La vittoria è giusta per quello che si è visto in campo e in tutta la partita. Abbiamo rischiato veramente poco. Peccato il gol proprio per lo scadere. Potevamo evitarlo anche se poi alla fine in queste partite l'unica cosa che conta sono i tre punti. Noi li abbiamo fatti e siamo contenti. Complimenti per la prestazione. Siamo alle solide. Però la posizione in classifica è quella ormai quest'anno. Penso che sia abbastanza compromesso. Sì, ma noi ragazzi lo sanno. Noi andiamo in campo tutti i sabati o le domeniche in maniera dignitosa cercando di fare la nostra partita per uscire a testa alta e difendere il nostro orgoglio e la nostra dignità. E credo che anche oggi i ragazzi siano riusciti.